Presi mentre stavano tentando la fuga, sentendo oramai il fiatto sul collo degli investigatori, sono stati arrestati nella scorsa notte tre cittadini romeni ritenuti essere parte della banda che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha aggredito nella loro villa di località Carminello a Lanciano i coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan. Sono stati catturati nelle campagne di Lanciano proprio quando cercavano di scappare. Avevano capito che il cerchio intorno a loro si stava stringendo ma sono stati braccati e acciuffati per poi essere portati al commissariato di polizia di Lanciano per essere interrogati. Avevano con sé giubbini e soldi, probabilmente quelli prelevati con le carte di credito e bancomat della coppia e che sono dunque riconducibili al misfatto di alcuni giorni fa. Sempre al commissariato è stata portata con il carroattrezzi anche la macchina utilizzata dalla banda, una Golf Blue con targa romena. Le indagini portate avanti dai carabinieri hanno avuto una forte accelerazione nelle ultime ore anche a seguito della testimonianza di un ambulante che nel settembre dello scorso anno subì una rapina con le medesime dinamiche. Gli occhi delle forze dell'ordine erano da tempo puntati su di loro per precedenti episodi, sempre consumati nel territorio frentano e sempre caratterizzati da una particolare cruenza. Polizie e carabinieri non si fermano. In queste ore è in corso un'operazione in corso Roma a Lanciano dove è stata circondata una palazzina nella quale abita una famiglia di romeni che potrebbe essere coinvolta nella rapina. Secondo la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti la banda che ha aggredito i coniugi Martelli era composta da quattro uomini più un quinto rimasto all'esterno a fare da palo. Cercavano una cassaforte che però in casa non c'era e prima che i malviventi se ne convincessero hanno legato e picchiato selvaggiamente il chirurgo Carlo Martelli e la moglie Niva Bazan a cui è stato reciso il lobo dell'orecchio destro. Per placare la rabbia della banda la coppia ha consegnato loro carte di credito e bancomat che hanno subito utilizzato per fare prelievi nella figliale UbiBanca in via per Fossa Cesia. Le immagini delle videocamere di sorveglianza sono state visionate dagli investigatori per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini. Sugli arresti fatti nella notte si è espresso anche il vicepremiere ministro dell'interno Matteo Salvini che in un tweet ha scritto coniugi massacreti a Lanciano in manette tre romeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre forze dell'ordine queste bestie devono marcire in galera. Toleranza zero.